Torniamo a Ho perso Lucy. Signora Carbancol, deve tornare in banca. Robert Wagner sta per venire ad aprire un conto corrente. A volte si vede ancora quel corvo in certi programmi. E ora su Two Town, i classici degli anni Ottanta, Coltney Suprema. Secondo il principio secondo cui il sublato fondamento cadi topus, dobbiamo guardare al caso di Hargrove contro lo stato di New York, nel quale la corte è aderito fermamente a... Stupido ciuccellone, mi deve una minimoto e io l'avrò. Signora Homer, lei ha dimenticato suo badge di centrale nucleare su esposto di biglietti di auguri. Non lo posso perdere, c'è la mia miglior foto che ho. Io preoccupo più di terrorismo globale, nemici di America darebbero qualsiasi cosa per sue incoscienze nucleari. Sì, so parecchie cose sul nucleare. Di America è così oceano di nemici. Iran, Iraq, Cina, Mordor, socole che hanno dato colpo basso a Tiger Woods, immigrati non desiderati, e intendo tutti quelli che sono arrivati dopo a me, compresi miei figli. E quindi le propongo di scambiare con la sua nazione dei segreti nucleari per una minimoto. Conclusivamente suo, Bart Simpson. Avete sgammato la storia delle mie lettere. Era solo uno scherzo. Sul serio? Peccato perché siamo molto interessati alla tua proposta. Ah, sei fortunato che ti abbiamo preso noi prima di FBI? Un'altra vergogna per i francesi bravi nelle indagini. Ricordati di noi, le team finlandese! Compiango lo scemo che si mette contro B.A. Beckström! Accettiamo la tua proposta. I segreti della centrale nucleare di tuo padre per una minimoto salsirata alla strada. Te la svelisci tutto su questa chiavetta. Non lo so. Posso davvero tradire il mio paese? Io recito il giuramento di fedeltà ogni giorno. È il giuramento di fedeltà alla bandiera. E la bandiera è made in Cina. E la bandiera è made in Cina.